Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò Tami, buona Pasqua Vieni a vedere! E' un po' cià Fami vedere l'uva da 30€ 30€ 30€ Borussia è finita la mezzoneve dai Giacomo Casti cosa dici? che bello che bello penso a delusioni a grandi imprese a una Thailandese ma l'impresa eccezionale danni retta e essere normale non era tanto freddo non è normalmente ho incontrato è stato un piacero è il mito in cima a mecca la felice e lo stivale a vero di fronte di anche sempre di un donna a comare incluso se hai presente una puttana coro Stami, dove siete? non abbiamo fatto niente non abbiamo fatto niente solo come un deficiente girando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice sono di Berlino Berlino ci sono stato con Bonetti era un po' triste molto grande change che cosa è molto us allora e se ci hanno la buona non è che cosa è questo è